Ciao Vergine, bentornato. Oggi è venerdì, 25 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Qual è il tuo numero oggi? Guarda fino alla fine del video per scoprirlo. Oroscopo Vergine. Meglio un bel libro che la realtà. Niente di eccezionale, il vostro treno riparte sbuffando sul binario della quotidianità. Tuttavia, a causa di un leve malessere o di un lavoro tutto da rifare rinviato alla prossima settimana, vi sentite demotivati, a dispetto del vostro senso del dovere e dello zelo che l'astrologia attribuisce al vostro segno. Aggiungeteci anche la luna malmostosa in dodicesima casa, bersagliata da venere, e capirete perché. Per non sedervi come un souffle lasciato troppo in forno cercate alternative puntando su altro. La dritta ve la dà il sole in sé stile, fate del vostro meglio per abbellire la casa e concedetevi qualche strappo alla regola, precisi e organizzati sì, ma non noiosi. Prima concludete l'affare o superate l'esame che vi mette agitazione, poi andrete a fare shopping. Equilibrio e armonia, bene le amicizie e le coppie. Potrebbero esserci anche proposte di matrimonio o convivenze interessanti. Buona salute sia fisica che spirituale, riconoscimenti e giustizia. Giuste opportunità in amore e sul lavoro. A volte basta un po' di pazienza per vincere le situazioni della vita, d'accordo che ne avete passate di tutti i colori ma che ne dite di seguire il consiglio di pazientare? Un incontro nuovo si prospetta all'orizzonte. Scegliete meglio le vostre amicizie, ci sono troppi pettegolezzi. State attenti a chi vi circonda. Non avete molto fiuto per le amicizie sincere. State alla larga dagli opportunisti. Ci sono persone invidiose che potrebbero parlare male di te, non prestarti a inutile polemiche e supera tutto con la tua solita eleganza. Siate più comprensivi e sappiate andare incontro al prossimo, avrete inoltre l'opportunità di aiutare un amico o un'amica. Fatelo senza attendervi nulla in cambio. Colleghi gelosi. Sii gentile con tutti. Proteggi con cura i tuoi segreti. Abbiate più fiducia nel partner che riuscirà a tirarvi fuori da una situazione non molto piacevole. Sappiate leggere tra le righe i messaggi che vi dà la persona che vi interessa, non siate chiuse di cuore e, per una volta tanto, lasciatevi andare. Non cercate per adesso nuove amicizie, non ne avete bisogno. Sappiate rendervi liberi da un rapporto che non vi potrà offrire più niente. Costellata da posizioni celesti diversificate questa giornata, ma che tutto sommato non vi faranno annoiare. Marte è nel segno del cancro e voi ne farrete in dubbi benefici, data la vostra amicizia con il quarto segno d'acqua. In aggiunta Sole e Luna vi forniscono uno stato di salute ottimale, ma Saturno imbronciato può darvi invece oggi un umore variabile. Questa ipotesi è più centrata se appartenete alla Virginia Seconda Decade. Attività come lo yoga possono riportarvi un discreto equilibrio mente, corpo. Un bel mercurio ancora positivo per il vostro segno, invece favorisce lo sport e l'esercizio fisico, specie nei nati nella Seconda Decade. Terza e Prima Decade invece, attivano la passione per la danza o balli, anche moderni, da condurre con un ritmo scatenato. Giornata storta, l'unica cosa che funziona, grazie al Sole in sé stile sono gli studi e i viaggi per lavoro. Insomma, la mente funziona a meraviglia, è il cuore, in senso sentimentale, quello che vi dà da pensare, venere imbronciata in quadratura e la luna malmostosa in dodicesima casa, riducono le vostre sicurezze in cenere. Amore ed Eros. A Cupido guardate con sospetto, memori di cicatrici passate e lui di riflesso guarda e intralice voi, certo senza intenzione di beneficiarvi. Qualche rimpianto per un ex che non riuscite a dimenticare, specie se lo incrociate tutte le settimane, chiaro che il vostro cuore lo sta ancora chiamando e lui risponde. Plutone e Urano vi aiutano a trovare le parole giuste per farvi comprendere dalla persona amata, in special modo se appartenete alla terza decade. Rispettosi degli spazi altrui e disponibili al confronto, gestirete il rapporto con il partner con delicatezza ed equilibrio. Lavoro e denaro. Difficile sentirvi realizzati se gli altri non vi attribuiscono il giusto valore, dando per scontate tutte le vostre potenzialità. È ancora più difficile acquisire credibilità ai loro occhi se siete voi i primi a non credere di valere. Buona idea pensare a un investimento immobiliare. Con Mercurio in transito nel segno amico dello Scorpione, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade, potreste, in questa giornata di ottobre, perdere la pazienza e mostrare il vostro lato duro combattendo le ingiustizie. Rigorosi e puntuali nel lavoro, non sopportate chi si comporta in maniera irresponsabile o chi si vuole approfittare degli altri. Benessere. Senza infamia e senza lode, la tensione si fa avvertire nella digestione, di fronte alle prove stomaco e intestino sono i primi a ribellarsi. Denaro. Siete abilissimi, come tutti i segni di terra d'altronde, nella gestione del denaro. Oggi saprete scovare abilmente un affare che vi porterà a fruttuosi rendimenti. Per lei, la collega che tenevate a distanza prendendola per una rivale è una vera rivelazione, simpatica, disponibile e tutt'altro che minacciosa per il vostro ruolo. Per lui, il ricordo di una ex nei panni del grillo parlante vi martella il cuore. Sapete di aver sbagliato ma c'è ancora spazio per rilanciare, scrivetele una bella lettera sincera. Colore delle emozioni, grigio azzurro. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 9, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie. Grazie.